A San Giovanni Valdarno prende il via il progetto Muoversi e non solo, in collaborazione con l'azienda Eventi Sociali, la locale Misericordia e il patrocinio del comune. Lo scopo del progetto è di aumentare i servizi sociali e sanitari a favore delle persone svantaggiate nel territorio del Valdarno, in particolare nei comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia. Nello specifico la Misericordia di San Giovanni Valdarno ha richiesto, non tra un mese e due, ma ieri, facendo una battuta, un Ford Custom 9 Posti che servirà ad aiutare tutte quelle persone che hanno difficoltà nello spostamento. Come al solito, dato che già in precedenza sono venuto sul territorio, il mio sarà un compito, come al solito, emozionante, per un semplice motivo, perché poter regalare il sorriso a persone più sfortunate è la cosa più bella ed importante che c'è nella vita. E avere dei mezzi obsoleti che hanno fatto tantissimi chilometri, il grado di sicurezza e anche il disagio nel trasporto vanno a aumentare, per cui il ricambio è fondamentale per noi. In un momento in cui le risorse per la sanità vanno diminuendo, per cui il sistema sanitario pubblico riesce a coprire male il costo di questi servizi, fare appello alla cittadinanza perché riversino sul territorio una parte delle loro risorse credo sia fondamentale. La misericordia è famosa per dare dei servizi ad altissima reattività come il 118 e come la protezione civile. Abbiamo visto che non è solo questo, ci sono mezzi che girano e che portano le persone verso le terapie, verso le analisi, verso le cliniche e anche altri servizi importanti che la misericordia può svolgere. Queste reti di collaborazione fra aziende, enti del terzo settore e amministrazione comunale sono determinanti per fornire al cittadino dei servizi che altrimenti non sarebbe possibile fornire. Queste reti dei servizi Grazie a tutti.